Umana San Giobbe chiusi 66, Paffoni, Fulgor, Basketball, Omenia 75. Vince, Omenia ha chiusi una partita importante perché comunque era il ritorno della squadra di casa presso le Muramica, ma che non ha nessun significato da un punto di vista globale del punteggio, essendo ancora 4 le partite che chiusi deve recuperare e che possono incidere su una classifica che comunque la vede nell'ambito dei play-off posizionata molto bene. 17-23, primo quarto comincia a fuggire Omenia, 22-19 ribadisce il vantaggio alla metà della partita, 15-14 il terzo quarto, vince il quarto chiusi come l'ultimo quarto, 16-15 per Omenia, finisce 75, Omenia 66, Umana San Giobbe chiusi che è start in 5 con Berti, May, Minoli, Fratto e Bortolin. Per quanto riguarda invece Omenia, Procacci, Balanzoni, Prandin, Sgobba e Scali. I dati. 14 sono le valutazioni per Berti con 9 punti, 19 sono i punti di Mattias Bortolin che si conferma in un ottimo stato di forma e 23 di valutazioni con 6 rimbalzi. Poi abbiamo 5 di valutazione per 3 punti per Criconia e 4 i punti di Zanini. 7 sono quelli punti di Francesco Fratto, 7 sono i punti di May. Per quanto riguarda Omenia, buonissima la partita di Roberto Prandin, 20 punti e 24 di valutazione, Artioli 12 punti e 13 di valutazione, Sgobba 14 punti e 21 di valutazione, Scali 12 punti e 16 di valutazione, come 12 sono i punti di Balanzoni con 13 di valutazione. Le percentuali al tiro, per quanto riguarda i tiri da 2, tira al 65% Menia, al 38 da 3 e sono al 58% dai liberi, mentre Chiusi tira al 42% da 2, 20% da 3 e l'88% dai liberi. Cosa dire e come commentare questa sconfitta? È una sconfitta che ci poteva stare, la squadra sta progressivamente rientrando dopo Covid, tutta la squadra è stata interessata e quindi la forma fisica deve essere ripresa. Intanto sugli altri campi, All Food Enich Firenze batte Imola a 75 a 58, con più del grosso e battuta da San Bernardo Alba a 78 a 69, Ozzano ha la meglio su Alessandria a 87 a 54, Cecina perde in casa con Rimini a 65 a 70, San Mignato perde in casa con Faenza a 91 a 80, Livorno, Opus Libertas Livorno perde in casa con Tiger Cesena a 78 a 66, Piombino la spunta a suo legge a 75 a 63 e, ripetiamo, Umana San Giobbe chiusi perde 66 a 75 per una classifica provvisoria che vede Livorno 34 punti, Rimini 30 punti, 28 Umana San Giobbe chiusi, 28 San Mignato, 28 Megna, 28 Faenza, 20 Tiger Cesena, 20 All Food, Enich Pinodragons, 18 Imola, 18 Piombino, 16 San Bernardino Alba, 16 Empoli, 16 Ozzano, 14 Cecina, 14 Oleggio e 2 Alessandria, ma sia Cecina deve recuperare veramente 4 partite, e anche Umana San Giobbe chiusi, quindi tutta la classifica va rivista alla luce dei recuperi, che saranno veramente tanti e frequenti nei prossimi giorni, e le squadre saranno richiamate a un impegno fisico importante. In attesa dei prossimi turni auguriamo buon basket a tutti.